bentornati ragazzi sul canale tutto tec oggi voglio ringraziare la società plus hack fa accessori per i nostri dispositivi vocali mi ha inviato un accessorio per ecospot secondo me già ecospot è un bel prodottino esteticamente molto bello molto compatto a tantissime funzioni lo schermo touch eccetera eccetera trovate sul canale tutta la recensione di questo prodotto ma parliamo dell'accessorio l'accessorio funziona in questo modo voi avete questo con l'alimentazione che va collegata quindi staccate l'alimentazione dell'ecospot e la inserite quella dell'accessorio nella parte posteriore dopodiché prendete l'alimentazione dell'ecospot e la collegate dell'accessorio vediamo un po più nel dettaglio l'accessorio è fatto in plastica resistente nella parte posteriore troviamo l'alimentazione per poter collegare l'alimentazione del nostro ecospot usb c usb il cavetto qui va collegato direttamente all'ecospot come vi ho fatto vedere prima nella parte sottostante troviamo poi una gomma antiscivolo questa farà sì che rimarrà saldamente ancorato sul vostro comodino o qualsiasi altro luogo dove decidete di posizionare accessorio ed ecospot diciamo che avete deciso di sostituire la vostra vecchia radiosveglia analogica con questo prodotto con l'ecospot ma ha collegata a mille fili avete carica del cellulare magari quello dell'apple watch magari di tutto quello che volete a questo punto vi basta prendere il cavetto ad esempio usb c e andarlo a collegare nella parte posteriore lo collegate qui all'altro capo andiamo a collegare il nostro cellulare e questo verrà alimentato e quindi ricaricato stessa cosa possiamo fare con un prodotto che è dotato di usb quindi possiamo nel frattempo avere l'alimentazione per il nostro ecospot ma in più possiamo avere alimentato e quindi ricaricato il nostro cellulare piuttosto che un altro accessorio che utilizza magari usb normale è un prodotto secondo me davvero fantastico perché dà la possibilità di utilizzare questa sveglia smart a 360 gradi ed eliminare una matassa di fili che erano collegati magari la presa sopra il comodino collegati da mille posti ma invece in questo modo avremo tutto quanto più compatto in questo luogo l'accessorio in questione viene venduto su amazon vi lascio qui sotto il link in descrizione naturalmente costa 24 euro 99 e all'interno della confezione trovate la vasetta con il cavo di alimentazione che va portato direttamente l'ecospot secondo me esteticamente è un prodotto che rende l'ecospot lo completa esteticamente quindi ragazzi vi basterà semplicemente acquistare questo accessorio sostituire la vostra vecchia radiosveglia analogica e passare a questa digitale con tutte le sue potenzialità smart e vi posso garantire che anche la parte audio fantastica ma rimanendo sull'accessorio togliete tutte quelle prese collegate sopra il comodino e utilizzate un accessorio come questo che vi darà la possibilità di fare molteplici collegamenti bene ragazzi io direi che per questo video è tutto ringraziamo di nuovo plus hack e ci vediamo al prossimo video ciao